Un gol che dimostra ancora una volta le eccezionali doti balistiche di questo giocatore. Non possono concedergli tutta questa libertà per calciare se non vogliono seguire altre reti come questa. Una rete che vale da sola il prezzo del biglietto, un siluro che ha sorpreso tutti, portieri compreso. Gustiamoci questa rete da una prospettiva diversa.